Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora andiamo ragazzi. In uno sconto delicatissimo che va lì dentro fuori la prossima Serie C, Rimini S finalmente a testa alta lo fa contro una squadra di salute come la Binoleff per giunta in casa sua. Le Lodi vanno al Tecnico Petronica, la vigilia per mantenere alta la concentrazione aveva voluto fortemente l'allenamento a porte chiuse. Lode anche a Piccioni, l'attaccante si è sbloccato trovando il primo gol di stagione tra l'altro con la maglia del Rimini e seguendo poi un pianto liberatorio subito dopo il gol. Chissà che non siano segnali di una nuova pagina da scrivere e colorare a tinte bianco-rosse, ma veniamo attraverso le immagini di Leavensport alla clonaca del match. La prima vera azione arriva al minuto 22 quando con personalità Montanari prende posizione in mira, pallone fuori di un nulla. A ventisettesimo cross di sbaffo dalla sinistra, Cori manca la girata di testa ma la traiettoria diventa un tiro. La palla termina a lato con Scotti a controllare la traiettoria. A ventottesimo è Nava a provare la soluzione dalla distanza senza trovare fortuna. Un giù di lancette dopo la Binoleff protesta per un contatto in area di rigore tra Marchetti e Sibilli. Pascarella lascia proseguire, il replay prova ad aiutarci. Al tetrovesimo il Rimini sblocca la situazione. Candido sulla sinistra è bravo a liberarsi per la piede, a far partire un velonoso tiro cross di sinistro. Cortinovis incerto sfiora solamente la palla, sul secondo pallo invece Calombo riesce a mettere in area al centro per la corrente Piccioni che trova così la zampata vincente, dandosi poi via a un pianto liberatorio, liberandosi della propria sfortuna avuta prima in Abruzzo con la maglia del Teramo e poi ad inizio seconda parte di stagione con la maglia del Rimini. Tutto facile per l'attaccante che se ne ha portavuoto per l'appunto il suo primo gol in stagione. In pieno recupero dalla parte opposta cross dalla destra incornata poderosa di Sibilli con palla sulla traversa poi Scotti con un bel riflesso sbanaccia in corner evitando i tappi invincenti dell'avversario. Nella ripresa al 64esimo lancio lungo a cercare sbaffo che di testa sul secondo pallo appoggia l'indietro per la corrente Ruffini sinistro radente del Neon Trato con la palla che termina di poco a lato alla sinistra di Scotti. A 71esimo punizione di Giorgione da destra, Coco di testa schiazza verso la porta di Scotti che ben piazzato respinge. A 78esimo perviene l'Albino Leff al pareggio, cross da sinistra, corre a centro aria, fa da sponda per Coco che al limite sinistro dell'area piccola controlla e da due passi supera di destro l'incolpevole Scotti via alla Capriola, alla Obi-Obi Martins per lui, meritato in questo caso il Reprei. All'85esimo direttamente da calcio piazzato, Badi prova a sorprendere Cortinovic che controlla la traiettoria sul proprio palo. Finisce 0-0 l'altretto azzurro d'Italia di Bergamo, un pareggio che lascia molti limpianti a Rimini, autore di un buon primo tempo. Come con i fano la squadra di Petrone è calata nella ripresa. I migliori, Piccioni, si sbrocca dopo quasi un'intera stagione, il calcio è anche questo, gioia e dolori e il pianto liberatorio sa di un adulto che come un bambino corre dietro la felicità chiamata a pallone. Un abbraccio da parte mia, la stampa e della tifoseria. Per l'Albino Leff, l'Oda e l'Exas con l'isbaffo, coinvolto qualche stagione fa nel calcio scommesso e sembrava un giocatore finito invece ancora lì a dettare tempi e traversoni insidiosi che recano brividi alla retroguardia. Ospite!